E' stato un giovedì sotto le stelle, lungo e ricco di avvenimenti, con i negozi aperti, musei e biblioteche in apertura straordinaria, visite guidate e tante occasioni di incontro e divertimento. I commercianti di Via Cavallotti hanno organizzato la Maxi Anguriata, che dalle ore 21 ha visto offrire gratuitamente fette del succulento frutto a tutti i passanti. Presenti diversi gazebo, dove poter mangiare e degustare un'ottima bibita fresca al chiaro di luna. Serata di beneficenza con quattro raggi sotto le stelle e ricavato della tradizionale gara di briscola e andato alla fattoria sociale Arca di Azzanello di Pasiano. Grossa partecipazione per l'incontro in Piazzetta Freschi, buon compleanno Italia da Pordenone. Una carrellata di immagini e commenti storici a cura della professoressa Maria Luisa Gaspardo Agosti. Parco 2, lo spazio espositivo di Via Bertossi, ha ospitato una visita guidata alla mostra fotografica Il Fotografo Fotografato. L'inedita mostra, curata da Guido Cecere, presenta immagini, fotografie, documenti dall'Ottocento ai giorni nostri. Visita guidata anche a Palazzo Ricchieri, sulle tracce di Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone, di cui il Museo Civico d'Arte conserva importanti opere. L'Estate in Città 2011 offre quasi ogni giorno, per due mesi, numerosi appuntamenti, spaziando dal teatro alla musica, dal cinema allo sport, dall'arte ai laboratori per bambini, dal cinema all'aperto alle visite guidate, venendo incontro ad interessi e gusti di un pubblico molto ampio e di tutte le età. Il programma completo di tutti gli eventi è disponibile all'indirizzo www.comune.pordenone.it Slash Estate